Ciao a tutti, allora questo video per parlare di materia ed energia, che è un argomento molto importante per capire diversi aspetti della nostra vita e di quello che abbiamo intorno. Oggi viviamo in un mondo dove l'emisfero razionale, quello sinistro del cervello, ha sopravvento su quello induttivo, perché tutto oggi è improntato sulla razionalità, al concetto, diciamo, tra virgolette scientifico di una scienza poi gestita ormai a piene mani da chi ha dei grossi interessi economici in gioco e che quindi utilizza tutto a suo uso e consumo, diciamo. L'approccio scientifico preponderante ancora oggi prende le basi dal modello fisico newtoniano, siamo nel 1600 grossomodo, che vede esclusivamente la materia e null'altro, materia che per essere studiata deve essere scomposta in tantissime piccole parti e studiata parte per parte, diciamo. Ma Einstein circa un secolo fa diceva che tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. L'energia si esprime sotto forma di frequenza e vibrazione. Tutto in questo mondo, ma nell'universo anche, vibra. Quindi l'essere umano vibra, la natura vibra, le piante vibrano, tutto vibra comunque, tutto entra in connessione attraverso queste vibrazioni. E ormai è chiaro, scientificamente provato, che l'energia e la materia sono la stessa identica cosa. Attorno al nostro corpo e al corpo di tutti gli esseri viventi esiste un campo energetico. E questo era già stato individuato a livello empirico, già dagli uomini primitivi, dove si parlava di animismo, dove tutto era animato, quindi tutto aveva vibrazione. Ma anche tra i greci si parla di ipneuma, per esempio, tra gli indiani dell'India, il prana, i cinesi, il chi, i giapponesi, il chi. Quindi il principio che anima tutti gli esseri viventi è nel loro corpo fisico, ma anche nel loro corpo energetico. E infatti questo è un concetto che è stato sviluppato tantissimo dalle medicine tradizionali, comunque. Perché il nostro organismo vibra tra i 6500 e i 6800 Armstrong. Quindi anche gli alimenti che ingeriamo, se hanno un livello vibratorio basso, ci abbassano un'energia vitale. Quelli che hanno un elemento, un'energia vibratoria alta, ce l'alzano. Quindi abbiamo, cos'è che ce l'alza? Sono gli alimenti, i cibi vivi, quindi la frutta e la verdura fresca. Tutto quello che è cotto abbassa le frequenze vibratorie e quindi ci abbassa il livello di energia complessivo. Anche la medicina di oggi si è fermata al modello newtoniano, quello della scomposizione in piccolissime parti dell'essere umano. Infatti esistono circa 600 specializzazioni che frammentando, frammentando, perdono di vista l'essere umano e non sanno più chi si ha di fronte, perché si concentrano esclusivamente sulla punta e l'iceberg che è la patologia di quel momento. Ma la patologia non è altro che la punta e l'iceberg di una situazione complessivamente destabilizzata all'interno del corpo, che sfocia in quella espressione. Quindi l'aspetto fondamentale sarebbe andare a vedere l'essere umano a 360 gradi per andare a riarmonizzare ciò che ha portato uno squilibrio e che poi in ultima analisi ha creato il sintomo e ha creato la patologia. E questo è l'approccio della naturopatia. Infatti io mi lista come naturopati e ci approcciamo in questi termini, non vedendo o vedendo parzialmente quello che potrebbe essere la sintomatologia, ma andando a ricercare cosa è andato a destabilizzare e a disarmonizzare un po' la persona nel suo complesso, che può essere a livello fisico, può essere a livello emozionale o anche su altri piani sicuramente. Quindi la visione a 360 gradi dell'essere umano è fondamentale se si vuole veramente aiutare la persona a riportarsi su un buono stato di salute, su un buon equilibrio. Quindi andando a lavorare sicuramente anche a livello vibrazionale. I nostri pensieri sono vibrazione, pensieri positivi sono vibrazioni alte, pensieri negativi sono vibrazioni basse, quindi bisogna sapere anche lavorare su questo piano perché è fondamentale se si vuole aiutare la persona. Chiudo qui questo piccolo video e ci aggiorniamo per la prossima. Ciao ciao!